Le recenti notizie di cronaca relative all'avvelenamento ad opera di ignoti di numerosi cani randaggi e non hanno spinto il sindaco di Licata Angelo Cambiano ad intervenire per condannare i gravi atti di violenza a carico di questi animali, ma anche per invitare ancora una volta la cittadinanza tutta a sostenere le varie iniziative intraprese dall'amministrazione comunale per la soluzione del grave fenomeno del randaggismo che all'Icata e nell'intero territorio comunale, e non solo, si trascina ormai da tantissimi anni. Fermo restando la volontà dell'amministrazione comunale di porre fine al grave fenomeno del randaggismo registrato in città, sono le testuali parole del primo cittadino, è altrettanto vero che non è sicuramente concepibile pensare di dare soluzione al problema procedendo all'avvelenamento di questi animali amati alla stragrande maggioranza degli uomini. Colgo l'occasione per invitare tutti i nostri concittadini ad agire con buon senso e a collaborare con l'esecutivo. A chi invece oltre che a lamentarsi per la presenza di cani magari cerca lo spunto per attaccare l'amministrazione comunale di inattività in merito, voglio ricordare, dice ancora Cambiano, che a parte tutto le iniziative prese dal nostro insediamento, che tra l'altro hanno già determinato l'avvenuta sterilizzazione di ben oltre 150 cani randagi, e di alcune settimane fa l'adozione di una direttiva del sottoscritto con la quale è stata individuata una serie di interventi per i quali è stato dato incarico ai dirigenti del Comune di espletare specifici compiti mirati alla soluzione del problema. In particolare ricordo che è stato disposto l'avvio delle procedure necessarie per l'alizzazione di un nuovo canile di adeguate dimensioni in terreni confiscati alla mafia oggi di proprietà comunale, che porterà un risparmio alle casse comunali di 18 mila euro annui, attuale costo dell'affitto e dell'immobile che ospite il canile, per la stesura di un bando che miri al coinvolgimento di associazioni animaliste che operano senza scopo di lucro al fine di avviare una campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione su quelle che sono le problematiche del randagismo e sul rispetto agli animali. Inoltre ricordo anche che è stata disposta la predisposizione di un regolamento che preveda l'esenzione totale o parziale del limu a favore di coloro che adotteranno un cane. Nell'amore, ricorda concludendo il sindaco, il Comando di Polizia Municipale è stato incaricato di organizzare ed effettuare un costante servizio di vigilanza e di controllo del territorio.